Musica Benvenuti qui con noi Cristina Giacchi, Vice Sindaco del Comune di Firenze. Benvenuta. Grazie. Che punto è il Comune di Firenze parlando di digitalizzazione? Il Comune di Firenze ha fatto molti progressi ed è molto avanti. Abbiamo un sistema di open data per esempio molto ampio e che vede pubblicati quasi integralmente tutti i dati rilevanti che possono interessare i cittadini. Abbiamo un sistema di comunicazione con i cittadini avanzato. Per esempio abbiamo un'applicazione Scola Mobile che fa dialogare i genitori delle scuole con l'amministrazione della scuola. Abbiamo un buon livello di digitalizzazione interna delle procedure. La strada è ancora tanta da fare, la burocrazia in Italia ha bisogno di semplificazione e spesso la digitalizzazione si scontra con quelle fatiche invece burocratiche imposte dalla evidenza pubblica, dalla normativa anticorruzione, dal tutto il sistema delle garanzie nei rapporti con la pubblica amministrazione. È un difficile equilibrio quello da tenere tra l'efficienza e il rispetto di tutti i principi di garanzia della privacy, dell'anticorruzione, del sistema della legalità. Ma è la sfida di questo tempo. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.